Stesso punto all'ordine del giorno, stesse motivazioni anche a quale anno si è riunito il Consiglio Comunale per discutere dell'impianto di smaltimento delle ecoballe a chiedere la seduta alla minoranza che nella proposta intende ricorrere al TAR contro la realizzazione dell'impianto a Ponte Riccio e vuole rivolgersi all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricorreremo al TAR, noi proporremo all'amministrazione di ricorrere al TAR, non solo ma ci rivolgeremo anche all'Organismo Mondiale della Sanità e esprimeremo anche dei voti di protesta nei confronti del Consiglio regionale ma in particolare nei confronti dei consiglieri regionali della zona che poco hanno fatto e stanno facendo per tutelare gli interessi dei cittadini appunto in questo caso di quali hanno, probabilmente hanno qualche altro interesse a violare. E' di questi giorni la notizia dell'ASL che l'incidenza della mortalità per malattie cancerogene in queste zone sono notevolmente superiori che in altre zone quindi penso che loro nel caso in cui non dovessero essere d'accordo dovranno poi spiegare alla città il perché. Il sindaco Raffaele De Leonardis si dichiara anche lui contrario a questo nuovo impianto che dovrebbe eliminare le ecoballe da Taverna del Re. Riteniamo che sia assolutamente da non prendere in considerazione questo ulteriore scempio che si vuole fare sul nostro territorio constatiamo ancora una volta la nostra difficoltà a dover contrastare qualcosa che non è del nostro territorio ma sta ai confini e quindi come al solito lungo i nostri confini o che si chiami Cave di Conta o che si chiama Cava Alma o che si chiama Sette Cainate o che si chiama Turbo Gas tutte nel comune di Giuliano e Villaricca vengono ad incidere sui nostri territori, sulla nostra economia e sulla nostra gente. Tante volte abbiamo adito le vie legali e abbiamo avuto anche torto e speso soldi dei contribuenti senza che ci sia nemmeno un riscontro da parte del TAR o di chi abbiamo adito. In questo momento noi cerchiamo di informare per bene la gente e fare il nostro ruolo istituzionale.